Ripetti Nacci dell'AMR, allora raccontaci innanzitutto questi tre gol I gol sono stati sicuramente frutto di una buona partita, penso i compagni hanno fatto una partita per eccezionale Sicuramente i tre gol sono stati frutto del lavoro settimanale e di una coesione di intenti Abbiamo fatto una buona partita, sono molto contento per questo e ringrazio innanzitutto i compagni Anche se siete partiti male perché eravate sotto dei due gol Sì, esatto, purtroppo quest'anno abbiamo avuto spesso degli approcci sbagliati nel partire Però l'importante è trovare la forza sempre di reagire con la giusta testa e anche i giusti piedi Ti è capitato mai di fare una tripletta? Sì, qualche anno fa, ormai l'età avanza Oh, non ride, ma non è Non tanto devi risionare le spalle Senti, come finirete questo campionato? Dove pensate di arrivare? Noi speriamo semplicemente di finire ingrescendo E puntare l'anno prossimo a consolidare una squadra che innanzitutto è fatta di grandi amici Questo è prima di tutto il primo obiettivo della vostra Ok, grazie